SONO IN DIRETTA? SONO IN DIRETTA? Vediamo se Instagram mi dà l'autorizzazione di iniziare. Davanti che non faccio una live su Instagram. Un bel po'. Come mai sta live? Così. Oggi parliamo di Apple così, senza un motivo valido. Oggi chiacchieriamo. Oggi farò delle domande a voi e voi farete delle domande a me. Quindi, ottimo. Mirko, ho visto i video dei 7 difetti di iPhone 11 e 11 Pro Max. Ottimo. Ti sto scrivendo da un iPhone 7? Vale ancora la pena usarlo nel 2020? Io sono utente Apple, povero. Starter pack. Ma sì, sì, per chi ce l'ha è ancora buono con iOS 13 o 12. Ragazzi, ora faccio una domanda a voi. Ora, volevo sapere intanto, dato che io, cioè, fondamentalmente non posso mai sapere che prodotti Apple avete voi. Volevo sapere qui, in chat, dovete scrivermi il vostro modello di iPhone. Così. Voglio sapere, voglio vedere quanti iPhone sono diffusi. Scrivetemi iPhone 11, XR, XS, 11 Pro Max. Scrivetemi il vostro modello. Voglio vedere la chat piena di iPhone. E vediamo quali sono i vostri iPhone preferiti che comprate maggiormente. L'iPhone 7. Sono il tale che ti tormenta sempre a suonare. E sono tuo fan, lo so, lo so. Ciao. XR, XR, X7, 11, e da ieri iMac, iPhone 8 Plus. X, 6, X, tutti ci sono, tutti i tipi. XS Max, 11 Pro, 11, iPhone 8, iPhone 8, iPhone 6S. Io sono povero un Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ok, direi, ragazzi, stop al televoto. Anche se non è un televoto. Direi che c'è una vastità incredibile di iPhone. Dalle vecchie generazioni alle nuove. Diciamo che gli ultimi iPhone, anzi, gli iPhone degli ultimi tre anni sono quelli più, che avete maggiormente, ecco. Ora, invece, voglio sapere che modello di iPad avete. Che modello di iPad. Ah, intanto vi dico i miei modelli di iPhone 11, 11 Pro Max, in questo momento, da quest'anno. E poi c'ho anche il 2G, eccetera, eccetera. Fatemi sapere che iPad avete, vediamo. iPad Pro, nessuno, nessuno non è un modello. iPad 2018, iPad Pro 2018, iPad Mini, prima edizione, ancora funziona? Non ce l'ho. iPad Pro, iPad Air, super scassato. iPad Air 2, iPad Pro 11 pollici, 2018, nessuno. Ok, quindi i più diffusi sono il 2018, 2019 e iPad Air e iPad Pro 2018. Ottimo. Ora, invece, ah, io ho iPad Pro 2018 e un iPad Mini 1, tutto distrutto anch'io. E volevo sapere da voi, invece, che iMac o MacBook avete. Cioè, che Mac avete, ragazzi? Se avete un Mac, eh, MacBook Pro, MacBook Pro, MacBook Air 2015, Mac 2013. E quale Mac? Mac 2019? Hai Mac 21 2015? Non ce l'ho. MacBook Air 2018? Nessuno, ma mia zia, hai il MacBook Air. Come l'hai scritto? Hai Mac 21 pollici del 2009, eh? Sarà un reperto storico, 11 anni di me. MacBook Pro 2015? Ah, da 15 pollici? Ah, su SvivoBook. Ciao, Simo. MacBook Pro 13 pollici, il migliore in assoluto, l'ultimo sul quale Steve mise mano. Mio padre tiene un Mac 13 pollici del 2013. 2012? Hai Mac 2013? Hai Mac 21... Ok, ragazzi. Beh, beh, beh. Allora, io pensavo che aveste in pochi Mac in Italia, invece, un botto. Anche perché le statistiche di Apple ufficiale italiane non sono mai uscite, quindi non sappiamo né quanti iPhone, né quanti iPad, né quanti Mac vengono venduti all'interno del territorio italiano. Quindi purtroppo è una stima che si deve fare così. Nel senso, fai una live, oppure fai un video, fai commenti, eccetera, e capisci più o meno la community che cosa possiede. Mirko iPhone X con carica... Con batteria, pardon, usurata dell'87% è buono e all'85% va cambiata, quindi già sei quasi alla fine. Dark mode su WhatsApp? Ancora non si sa nulla, Lorenzo. Purtroppo non si sa, assolutamente nulla. Mirko, alcuni non sanno nemmeno cos'è il Mac, eh, lo so. Mirko, come posso fare a cambiare la batteria? Dove andare in Apple Store, ovviamente. Mirko, ho scoperto oggi che in alcune zone dell'Asia si stanno vendendo degli iPhone con dual SIM. Che ne pensi? La dual SIM arriverà sui nuovi iPhone? Ma già si sa da anni, dall'anno scorso, da iPhone XR, XS ed XS Max, pardon, in Cina, vendono il dual SIM fisico, che non dovrebbe arrivare da noi, perché da noi ci saranno prima o poi le SIM virtuali, e quindi ci saranno due slot di SIM virtuali e non fisiche. Ha senso iPhone 6 nel 2020? Assolutamente no, ormai non supporta neanche iOS 13. Da quanto tempo sei su YouTube? Quest'anno fanno 11 anni, 11 anni, a settembre ne ho fatti 10 da poco. A settembre sono 11. Di solito te la prendi con Vodafone, vabbè, ogni tanto ci sta anche a fare quattro chiacchiere così. Sarebbe figa la dark mode su WhatsApp, eh, magari. Mi stanno arrivando in commercio, ma con fatica la Vodafone se non erro. Già, Vodafone dovrebbe essere quasi in procinto. La team ce l'ha già da qualche mese, poi Wind 3 dovrebbe arrivare adesso, inizio 2020. Un mio amico ha un iPhone con batteria usurata al 60, ma io, cioè, ragazzi, faccio questo lavoro da 10 anni. Qui su Instagram mi contattano tutti i giorni, voi stessi mi contattate tutti i giorni per assistenza, consigli per gli acquisti su Amazon, cose. Mi è capitato che una volta una batteria che era al 30 e qualcosa per cento, io gli ho detto, vai subito perché ti esplode in mano immediatamente, subito. La differenza tra sim virtuale e fisica, lo dice la stessa cosa, virtuale non esiste, è dentro iPhone, cioè, è virtuale, via software, è fisica, è fisica, cioè, la compri in negozio. Cosa ti aspetti dal nuovo iPad? Penso solo una tripla fotocamera, quindi grand'angolo, eccetera, eccetera, ultra grand'angolo, pardon, e forse in 5G, come dicono i rumors. Ciao Mirko, sono la ragazza di Simone, sento sempre parlare di te. Ciao, ciao. Maledi ricotta, eh, dobbiamo ancora attendere. Che poi credo che sia proprio impossibile usurare la batteria a far arrivare al 30%. Eppure, eppure, la batteria va sempre peggio, nel senso, più si usura, cioè, più è usurata, più si usura, quindi, ma tu non hai sonno, a che ora vai a dormire, la maggior parte delle volte, quando monti video, allora, dipende, i video li monto molto spesso, o il pomeriggio, o la mattina, quando mi sveglio, ma solitamente vado a letto tra le 4 e le 6 del mattino. Ma se il 4G ancora non è stato sfruttato al massimo, che senso ha il 5G? Bravo Cesco. E' proprio quello che cerco di ficcare in testa a quelli che dicono, non compro i nuovi iPhone se non hanno il 5G, non serve, è un cazzo, ragazzi. Mirko, iPhone 12 farà sentire vecchiotto di molto iPhone 11, se dovesse essere senza notch, sì. Secondo me sì. Touch ID sullo schermo? Eh beh, dicono di sì. I rumors dicono di sì, ma solo sul modello più grande, quindi iPhone 12 Pro Max. Mirko, secondo te ha senso comprare nel 2020 l'Apple Watch Series 3? Eh certo, certo, l'ho regalato alla mia ragazza questo Natale. Scusa le domande, ma quindi se prendo un MacBook da 13 ore non posso riprodurre video in 4K, posso comunque elaborarli? Sono due cose distinte e separate. Se tu guardi YouTube, non puoi arrivare a quella risoluzione in 4K, perché lo schermo del tuo Mac non supporta il 4K, ma tu puoi usare e montare file in 4K che c'entra, perché li devi visualizzare in quel senso, devi esportarli con quel formato 4K che è diverso. Mirko, ho comprato ieri l'Apple Watch, consigli sulle ricariche, le stesse di iPhone, al di sotto del 20% o mai, quindi caricare al 30, 40, 50% e basta, questo è l'unico accorgimento importante. Allora ragazzi, ora invece, dopo vi farò io un'altra domanda, ora invece fatemi voi una domanda, una cosa che volete sapere, non so, di me, di quello che penso e io risponderò alla migliore domanda. Guarda me, le scarto tutte e rispondo. Ecco, questo voglio rispondere. Federico, ti manca l'effetto wow delle presentazioni di Steve Jobs? Quando guardavo i suoi eventi ero davvero emozionato. Allora, mi manca tantissimo, perché quando saliva lui sul palco, a parte che c'era tipo una magia, nel senso, era lui che rappresentava Apple, quindi vedere lui che saliva sul palco e la gente lo acclamava, ti gasava, anche se lui ti presentava, che so, veniva e faceva acqua San Benedetto, compratela. La gente la comprava, perché era Steve Jobs, capito? Quella magia, quella cosa tipo, quel suo carisma, non c'è più, non c'è più. Sì, mi gaso lo stesso con Tim Cook, però non è la stessa cosa. Cioè, io mi ricordo i primi eventi Apple fatti in diretta da me su YouTube, che io mi alzavo in piedi, applaudivo tipo che fossi lì. Adesso, sì, gasato, però, ok. Cioè, manca tanto la presenza di Steve Jobs, soprattutto per rafforzare, diciamo, l'emblema dell'azienda. Cioè, il marchio ancora di più. Ormai, ovviamente, è già fortissimo in tutto il mondo, però, la sua faccia e il suo nome e cognome erano spettacolari. Hai convertito la tua ragazza all'intero ecosistema Apple? Eh, nì, perché quando l'ho conosciuta già aveva un iPhone e aveva un MacBook Air, quindi, fondamentalmente, adesso ha l'Apple Watch in più. Ti manca iPhone 2G? No, ce l'ho, è lì sulla scrivania. Il migliore prodotto Apple di sempre, secondo te? Penso proprio iPhone 2G, perché, secondo me, da lì, poi, è nata tutta la tecnologia, perché poi Samsung ha cominciato a copiare iPhone, ci sono state le cause legali, Apple le ha vinte, Samsung ha dovuto pagare miliardi, no, forse milioni, ad Apple, e da lì sono nati tutti gli altri marchi, Huawei, Oppo, tutti, Redmi, Mi, tutte cose. Apple ha creato, praticamente, il mercato degli smartphone. Apple TV o Mediosky? Sono due cose completamente diverse. Apple TV è noleggio, Sky... Cioè, noleggio singolo di film o serie tv, Sky hai tutto, se ti fai i pacchetti giusti. Come Steve non ci sarà mai nessuno. E' vero che quest'anno uscirà iPhone 9? Si dice di sì. A marzo dovrebbe uscire un nuovo iPhone, chiamato iPhone 9, molto similare ad iPhone 8, stesso corpo, più o meno, con fotocamera più grande, quindi la stessa di iPhone XR, dovrebbe essere aggiornato all'Apple A13 Bionic, che attualmente si trova già su iPhone 11 Pro, Pro Max e anche su iPhone 11, e dietro questo nuovo design, non opaco, ma con il vetro come nel iPhone 11, c'è la melina al centro, così dicono i rumors. Con un prezzo di 4-500 euro, quindi ottimo. La cosa che ti piace meno ultimamente di Apple, iOS, iOS, senza alcun dubbio iOS. Non vedo più novità eclatanti, ma soprattutto non vedo più le prestazioni e la velocità che c'era con iOS 5 e 6, ragazzi. Dall'avvento di iOS 7, cioè 5 e 6 non c'era un'animazione, tu premevi, boom, premevi, boom, cioè subito. Ora invece premi, animazione e poi succede quello che deve succedere. Come ti trovi con Catalina? Bene, si aggiornassero i programmi di terze parti. Purtroppo, cioè, iOS è l'unica pecca in questo momento. Dall'11 non si sono più ripresi. Hanno fatto il 12, sì, incremento di prestazione, e poi un mese bug, perdita di segnale Wi-Fi, ma lo ricordo ancora io con iPhone 11. Un mese perdita di segnale 3G, un mese crashavano le app, un mese bug, glitch, grave, si blocca. Poi, iOS 13, quest'anno, me lo fai uscire potente, veloce, Face ID, migliorato velocità di qua e di là, e poi mi fai dieci aggiornamenti in un mese perché è pieno di bug anche questo. Ultimo iOS buono, iOS 10, ma neanche, ma neanche, secondo me l'unico buono, buono, che era veramente veloce era il 6, che per quanto era, aveva una tecnologia scarsa e basilare, era proprio il fatto che fosse basilare, a renderlo velocissimo. Ora invece devono fare i figli, devono strafare, devono farti tutta l'animazione, cioè tu, non lo so, entri in live e fai, cioè, non lo so, bug. Mirko, ma se dall'inizio io faccio giusto i cicli di ricarica mi durerà davvero tanto la batteria? Sì, come ho detto già in parecchi video, dovrebbe scendere in media tra il 2 e il 3% ogni anno l'usura, quindi se riesci a caricare bene dovresti rientrare in questo range. Su quale iPhone ti è venuto l'effetto, wow, le sensazioni impossibili da dimenticare? Forse iPhone 5S, non so, quel Touch ID all'epoca mi ha sconvolto, cioè sono rimasto tipo, ma? Ma? Cioè lo vedevo nei film, tipo l'impronta digitale, poi ma? E poi da lì hanno copiato tutti, tutti. Come ti trovi con Apple Arcade? Non l'ho mai fatto, perché non ho tempo di giocare, purtroppo ha questi giochi, quando ce l'ho preferisco giocare giochi alla PS4. Come mai hai questa passione per Apple? Allora, circa 11 anni fa quasi, vidi una live Apple di Steve Jobs, di iPhone 3G, e mi sono innamorato all'epoca di, non lo so, dell'iPhone, del design, e da lì poi, dato che gestivo già un forum sugli anime e i manga, all'epoca Naruto, One Piece, ero, chiedo, sedicenne, così, poi ho deciso di cambiare il forum in Apple, mi è piaciuto, e poi ho aperto il blog, e poi ho aperto il canale YouTube, eccetera, eccetera. Una cosa che ho detto del mio XS è la dotazione dell'alimentazione a 5W che impiega più di 3 ore a caricarsi. Io ti posso dire che è migliore della ricarica rapida, quella che a me fa impiegare 30 minuti per il 50%, perché la batteria si usura nel tempo in minor modo, se stressata in minor modo. Quindi, se tu usi il 5W, in automatico ti dura il triplo, praticamente, di quanto durerà a me. Se non te l'iPhone 12, sarà con i bordi come quelli di iPhone 5? Io spero di sì, i rumors dicono di sì, e speriamo. Che giochi ti piace giocare sulla PS4? Seguimi su twitch.tv slash Mirko trattino basso zen, più o meno 2-3 serie a settimana, sono lì in live a giocare la sera, fino a, non so, a luna di notte, per poi continuare il lavoro dopo, quindi, se vi interessa, seguitemi su twitch, ripeto, Mirko trattino basso zen, twitch.tv. Da quanto tempo sei fidanzato? Giorno 1 di febbraio, ovvero fra due settimane circa, da un anno. Sì, che non c'entra niente, ma una macchina che vorresti avere? La Mustang. La Ford Mustang. Lavora a 1 euro, e la gente ancora fa il confronto tra Apple e Android, guardando le specifiche rame e processore. Perché tanta ignoranza? Eh, bella domanda, bella domanda, non cambierà mai questa cosa. Come mai quando metto in carica il mio iPhone, mi riconosce il cavo Lightroom? Solo se scollego e poi ricollego, altrimenti, controlla se nel cavo Lightroom ci sono delle barrette, tipo, aspetta che colore sono, ma che dico una cazzata, è dorate, scusa. Controlla se una di queste è un po' nera, o ha dei punti neri, vuol dire che il cavo si sta rompendo, quindi lo devi cambiare. Qual è l'app che usi spesso, oltre ai social? Iapp Zain, ragazzi. Scaricatela, è gratis, ve lo ricordo, l'app ufficiale del mio canale YouTube, e anche del blog AppleZain.net, dove ogni giorno ci sono tutte le novità più importanti sul mondo Apple, novità su iOS 14, sugli iPhone 12, sui nuovi iPad Pro 2020, e tanto, tanto altro. Gratis sia per iPhone, che per iPad, su App Store. A me una volta un tizio dello stand Galaxy mi disse, ciao, vuoi vedere le ultime novità di Samsung? Disposi palesemente, no, preferisco cellulari veri, come Apple, e non giocattoli, sei rimasto di me. La tua app la gestisci da solo? Yes. Ciao Mirko, guardo sempre i tuoi video, comprovivenuti per il canale, grazie mille. Mirko, tra le app di default Apple, quale ritieni la più inutile? La bussola, perché, per quanto è utile, chi cacchio la usa nella vita quotidiana? La bussola, cioè, la bussola, dai, la bussola, dai, a meno che non ti perdi nel bosco, che cacchio, touch ID o face ID, una combinazione dei due ci vorrebbe. Quando tu hai le mani bagnate, usi il face ID, nella normalità, usi il touch ID. Ma infatti, che cacchio l'ha messa a fare la bussola? Per ogni evenienza, no? Quali progetti hai per il futuro del canale? Questo non si può spoilerare, ragazzi, questo non si può spoilerare. Mirko, top del top, grazie, il tuo primo iPhone di sempre è il 3GS, il mio primo iPhone è stato nel 2009 il 3GS, da 32 GB, che mi ha portato poi ad aprire il canale YouTube, eccetera, eccetera. Quella migliore taglia di GB per iPhone, non c'è una migliore, dipende da te e da quanto spazio consumi, questo lo puoi sapere solo tu. Complimenti comunque per il tuo carisma, quando guardi i tuoi video mi tieni incollata, grazie, questo mi fa piacere, questo mi fa veramente piacere. Anche se hai una faccia distrutta a riposare, e questo è perché vado a letto tra le 4 e le 6, tutti i giorni, quindi fai qualche altro lavoro, lavoro oltre YouTube, cioè oltre a YouTube, no, io gestisco il canale YouTube di Apple Zane, ma Apple Zane nasce come blog e come applicazione, quindi questo è il mio lavoro da 10 anni. Perché i YouTuber che parlano di Android dicono che Apple presenta la solita minestra riscaldata? Perché non provano il mondo Apple. Semplice, perché se tu hai un ecosistema Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, e non li provi per una settimana, ma ci stai per anni, capisci che questo è meglio di quello. Ma a parlare siamo tutti bravi a provare, no. Io ero Android, prima ma adesso che ho scoperto il mondo Apple, non lo cambierò mai con nessuno. Bravissima Rosaria, spero che tu abbia iApp Zane sul tuo iPhone. Ecco, dammi un consiglio, io ho la batteria all'82%, per evitare che mi cala velocemente, cosa posso fare? Nulla. Purtroppo, Claudio, quando la batteria è usurata, già all'85 si dovrebbe cambiare, se è l'82 la devi cambiare già da un po', quando si usura, si usura sempre di più. Purtroppo non puoi fare nulla. Ti saluto la mia ragazza. Ciao ragazza di Diego. Perché avete sta fissa di farmi salutare dalle vostre ragazze. Quindi dite, amore guarda, ecco il ragazzo che seguo su YouTube. Perché hai sentito il bisogno di fare un video che parla dei sette difetti di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max? Ti spiego subito, perché molte persone credono, anche se l'ho dimostrato, cioè ho dimostrato il contrario in vari video e in vari momenti della mia vita sul web, che io sia di parte nel mondo Apple. No, no. Siccome io so cos'è giusto e sbagliato nel mondo della tecnologia, perché so cosa voglio io, e per me in questo momento, come da dieci anni ormai questa parte, è il mondo Apple, so anche però che ci sono dei difetti. E perché nasconderli? Se uno deve essere sincero, deve essere sincero fino alla fine. Quindi diciamo i pregi, non a recensione, ma diciamo anche i difetti. E quindi è giusto fare anche i video dove parlo dei difetti, no? Non sono il classico tipo che dice bello, comprarlo, perfetto, veloce, potente, ottimo. No, no, non è così. iPhone, secondo me è il miglior smartphone del mondo, per questo, 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 ma ci sono delle pecche, è giusto saperle. Il tuo YouTuber preferito? Non è uno, ma è un gruppo? Sono i ragazzi di Space Valley, non so se li conoscete, in questi ultimi mesi che ho iniziato a seguirli, Nelson, Tonno, e Cesare, mi piacciono, sono dei ragazzi fantastici, chissà se un giorno collaboreremo e faremo qualcosa insieme, mi farebbe molto piacere. Ti apprezzo, riguardo dei video, dei sette difetti. Ragazzi, la sincerità è alla base di tutto, se io dico, che ne so, comprate questa memoria SD, è buona, e poi fa schifo, la gente dice, Mirko, ma che cacchio mi hai fatto comprare? Quindi è giusto che io dica i pregi e i difetti di una cosa, perché è così, bisogna, bisogna essere sinceri. Quando le persone dicono, fai l'influencer, che a me fa un'antipatia a sta parola, perché io, influencer, lo associo ad una ragazza che mezza nuda cerca di mostrare il suo corpo su Instagram, e io non sono una ragazza mezza nuda che cerca di mostrare il suo corpo su Instagram, ma faccio informazioni, do consigli sulle informazioni, o sugli acquisti, in base a quello che le persone mi chiedono. Quindi, dato che sono un influencer, come dicono volgarmente le persone, quello che io spesso consiglio, la gente lo compra, e quindi, se effettivamente fa schifo, poi io ne becco le conseguenze, perché se io consiglio a te, che mi stai guardando, di comprare un prodotto, poi quel prodotto fa schifo, la prossima volta tu non mi ascolterai più, e è chiaro che non funziona la cosa, no? Farei qualche viaggetto? In questi anni no. Io penso che forse in estate qualcosina, non lo so, ma attualmente mi sto dedicando al lavoro giorno e notte, anima e corpo, perché voglio arrivare il prima possibile a 100.000 iscritti, ragazzi, perché ci sarebbe quel salto che mi permetterebbe di avere sponsor o altre cose, in modo tale da cambiare nuovamente casa, da fare un botto di cose che devo fare, purtroppo, o per fortuna, e quindi speriamo che nel tempo possa, diciamo, succedere tutto questo, ecco. Progetti per cui tu hai già in mente qualcosa? Sì, però purtroppo ragazzi non ve lo posso spoilerare, farò un video dedicato se ci dovesse essere qualcosa da spoilerare subito, intanto in questo periodo vi dico l'ultima cosa e poi scappo, stiamo lavorando per fixare un bug su iAppZain, l'applicazione appunto di AppleZain.net con l'assistenza del portale al quale ci affidiamo su AppleZain.net, abbiamo una collaborazione con GoodBarber, non so se lo conoscete, dal 2015, noi stiamo cercando di fixare questo problema, il problema è relativo alle notifiche, se voi non aprite l'app, almeno una volta al giorno, l'applicazione smetterà di mandarvi le notifiche, praticamente c'è una sorta di token viene chiamato che quando apri l'app si attiva e quando la chiudi dovrebbe rimanere attivo, ma c'è un bug che non riusciamo a spiegarci, infatti stiamo eseguendo dei test, che permette all'applicazione di annullare questo token se noi ogni giorno non accediamo all'app, quindi ragazzi se non vi arrivano le notifiche dell'app iAppZain, basta accedere una volta al giorno, tipo la mattina all'applicazione, tutto il giorno vi arriveranno le notifiche, il giorno dopo cosa seguente, cioè nuovamente sta cosa, quindi rifatelo, eccetera, eccetera. E io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net Grazie a tutti! Grazie a tutti!